Pierluigi Tassotti, presidente della commissione consigliare che si sta occupando della situazione della Rivera delle Palme. A che punto sono arrivate queste discussioni accompagnate anche da molte polemiche? Diciamo che siamo alla fase finale, nel senso che l'ultima commissione di venerdì scorso sono stati approvati i verbali dell'istituto dei precedenti, o perlomeno sono stati approvati tutti verbali, ne erano nove, otto all'unanimità, uno quello che riportava l'integrazione dell'ingegnere Cingiripini non è stato votato all'unanimità perché i consigli di maggioranza hanno disconosciuto le integrazioni che l'ingegnere via email aveva mandato a integrazione del verbale che era stato redatto in prima istanza. Io non mi sono trovato d'accordo con la loro versione perché in ogni caso siamo partiti dall'anomalia che probabilmente se le sedute erano registrate come lo stesso ingegnere Cingiripini e noi della minoranza avevamo richiesto, probabilmente non ci sarebbero stati questi problemi. Dopo tre mesi è chiaro che non è semplice ricordarsi tutte le parole e i passaggi anche se concettualmente non è cambiato nulla, solo forse i toni un po' più aspri usati in alcune parole dall'ingegnere, comunque queste sono affermazioni sue fatte di suo pugno quindi non vedo perché io non debba tenere le presenti oppure disconoscerle. Passata questa fase io adesso ho già iniziato a lavorare sulla relazione finale che probabilmente porterò in consiglio ad aprile, insomma presumibilmente ad aprile il consiglio di aprile, adesso non so quanti consigli saranno in aprile. Secondo noi qualche passaggio poco chiaro, perlomeno non diciamo poco chiaro, qualche passaggio che insomma non ha portato all'obiettivo da raggiungere c'è stato perché poi ecco io dico sempre per parlare alla città, alla agenda normale che poi queste piccole cose magari non interessa però il concetto di base è stato sannaturato, cioè si parte tre anni fa per dare un sostentamento alla società sportiva e si arriva dopo tre anni a uno stadio non finito con 900 mila euro di debiti e con un privato che legittimamente comunque guadagna sopra senza che comunque sia parte della società quindi la San Mettese in questa situazione ci ha guadagnato zero grazie a tutti